Volevo essere meno veloce perché ero preparato, però cercherò di essere praticamente quanto più breve. Buongiorno, nuovamente una platea di quelle incredibili. Brescia è la provincia di Brescia, può regalarci queste cose. Ieri la sala era altrettanto cremita come oggi e quindi credo che sia l'effetto taumaturgico del Presidente Prandini che genera questo tipo di possibilità. Però detto questo veniamo subito, lei ha fatto bene a dire che la zootecnia è sotto attacco, è veramente sotto attacco. Inutile che ci nascondiamo dietro un dito. La zootecnia è con tutti i derivati della zootecnia. Noi qui abbiamo un direttore importantissimo, quello del Granapadano, che ci rincuora costantemente sul fatto no, sì è vero, fanno già il latte sintetico ma ancora non ci sono in circolazione i formaggi. Allora io volevo dirgli che la prossima settimana, te l'ho già detto, avrai il primo grande spicchio di gorgonzola fatto con la non presenza del latte, fatto come latte sintetico. Perché questi tipi di rassicurazioni che ci vogliamo dare sono, torno a ripetere, bestiali, sono veramente il possibile rantolo della morte per la zootecnia. Noi dobbiamo essere pronti perché questa è una guerra senza quartiere. Sarà, cari amici, una guerra senza quartiere e tutte le movenze di questa guerra le possiamo già in qualche modo individuare dentro quello che è uno scenario anche europeo. Noi tre minacce abbiamo in questo momento fondamentali e sono delle minacce che indirettamente, non direttamente, perché io e il Presidente abbiamo avuto l'onore e il piacere ma anche la forza di un incontro scontro con Timmermans. Siamo l'unica grande organizzazione di rappresentanza a livello europeo che non più di dieci giorni fa ha avuto, tra virgolette, la possibilità di un incontro che doveva essere di cinque minuti in quanto lui si è rappresentato con le registrazioni del fatto che gli avevamo detto che era un gran cornuto. Gli abbiamo detto che è vero, è vero. Devo dire che il nostro Presidente è stato bravissimo perché non ha ceduto un attimo e gli ha detto è proprio vero quello che gli abbiamo detto. Gli abbiamo detto perché siamo profondamente convinti di quello che gli abbiamo detto. Allora lui sperando di chiudere immediatamente l'incontro ha fatto ah poi perché mi state dicendo che tiro la volata io al cibo sintetico. Mi ricordo questa frase, il Presidente puntando il dito ha fatto offenderei la mia intelligenza se non pensassi che è proprio questo quello che è il pensiero che ci accompagna. Lei prenda note per l'informatore agrario che normalmente parlate solo di confaricoltura che pure col diretto però. L'informatore agrario del resto è come tutte quelle cose che servono anche in Italia la memoria di ciò che fu e quindi questo è un fatto molto importante. Detto questo veniamo e abbiamo nuovamente rappresentato a Timmermans le tre minacce chiedo scusa, chiedo scusa, le tre minacce che in qualche modo ci turbano il sonno. La prima è la minaccia sulla direttiva pesticidi, parlo in una zona dove se dovesse passare questa direttiva con i limiti ai pesticidi che lui ha in qualche modo individuato attraverso il suo staff, staff che è animato, pensate, da persone che sono da sempre i più grandi dirigenti di Greenpeace che è una grande forza di rappresentanza di interessi, dice no ma noi non siamo una rappresentanza. Sono rappresentanti di interessi ben precisi che hanno deciso che la zootecnia, non in Italia, nel mondo debba sparire. Del resto noi qui siamo in una sede non lontano da Milano, bastava leggere l'articolo della Gabbanelli che sembrava neutro, che cos'è la carne artificiale sul cogliere della sera, sul data room di qualche giorno fa per rendersi conto dove batte il cuore. Perché? Perché questo signore che ha riacchiappato su di sé tutti i sentiment dei grandi salotti ecologisti o pseudo ecologisti, quelli della domenica, non so se riesco a spiegarmi, hanno individuato erroneamente, profondamente erroneamente, nelle stalle e nella zootecnia la causa di tutti i mali di questo Green Deal che ci auguriamo arrivi il prima possibile. Non capendo per esempio un primo grande discorso, che tra le emissioni che vengono praticamente realizzate in termini di produzione di metano e quello che invece noi fissiamo di carbonio positivo siamo perfettamente equiparabili. Ma non prendono neanche in considerazione quello che abbiamo visto ieri in un filmato. I nostri produttori ormai sono diventati sempre produttori di biogas, i nostri produttori sono diventati e pensate produttori di biometano liquido. Arrivano le macchine e in qualche modo fanno il pieno a metà del prezzo attraverso quello che le deiezioni animali permettono oggi all'interno di una stalla. Non prendono in considerazione neanche questo. Stiamo contribuendo e contribuiremo sempre più a una possibile nuova risorsa per le energie alternative. Perché di fatto già è così. Qui in mezzo a voi ci saranno decine e decine e decine di produttori che con le deiezioni animali procurano praticamente energia per il gestore relativamente al biogas. Ma ci sono potenzialmente ancora centinaia e centinaia di produttori e lo chiedo al mio grande presidente di incalzare molto da vicino l'amico che ieri bravissimo ci ha rappresentato come consorzio nazionale dei produttori di biogas che i due miliardi che sostanno a disposizione non è che debbono andare alle grandi industrie. Lo dico io con grande chiarezza. Perché chiaramente se fanno l'accordo Eni ed Enel per noi rimangono le miserie. Non so se riesco a spiegare. Pur essendo noi grandi alleati, ve lo dico con molta chiarezza, soprattutto di Eni, io credo che vada fatto un ragionamento per cui una quota parte, un terzo deve essere destinato alle grandi industrie che in qualche modo hanno a che fare con l'energia il resto va spalmato sulle nostre imprese per poter creare quei passaggi doverosi che richiedono un investimento abbastanza robusto. E in questo momento investimenti robusti con l'aria che tira non è una cosa che può essere presa a cuor leggera. Anche se dico a lei che i nostri produttori, soprattutto quelli della col diretti, sono delle persone che anticipano sempre i tempi, sono in grado con le loro famiglie di fare sacrifici abnormi pur di mettere in linea il futuro della loro impresa. Noi siamo abituati così da sempre. Da sempre. Noi abbiamo sempre comprato i trattori pagandoli. non li abbiamo mai avuti in prestito. E quindi questo significa quello che significa. Lo dico perché così praticamente facciamo un po' anche la storia patria. Ma detto questo, dicevo, le minacce sono quelle per esempio sui pesticidi. Se passa quella decretazione, se passa quel regolamento, scusate, non si può più coltivare il mais. In tutta Europa, non in Italia, in tutta Europa, non si può più coltivare il mais. Verrebbe sottratto quasi il 30% delle superfici più agricole, quindi più fertili, in tutta quanta la comunità. Abbiamo una direttiva emissioni su cui ci siamo incazzati da morire con Timberman. Ma è pensabile che una stalla con 150 vacche debba essere paragonate all'acciaieria di Arvedi. Ma stiamo scherzando? In termini di inquinamento? Sia in termini burocratici che in termini di responsabilità civili, penali. Quindi una stalla di 150 vacche per questa sorta di regolamento chiamato emissioni è identico all'ilva che sta giù a Taranto. Ma stiamo scherzando. Poi abbiamo detto loro, con molta chiarezza, attenzione, noi non saremo i dirigenti del Copa. Lei lo sa chi sono i dirigenti del Copa? Chi è il vicepresidente del Copa? Chi è? Ah, Gian Santi che è il presidente. Ecco, io non andremo praticamente a raccontare in Italia che siccome da 150 ci ha portato praticamente a 151 vacche che possono praticamente essere esenti, ci accontentiamo. Noi non siamo il Copa. Noi siamo la col diretti che non la manda buona a nessuno. Già queste due cose la dovrebbero dire lunga su che cosa significa. Allora uno potrebbe dire, sì ma poi ci hai messo sempre dentro anche il meccanismo del Nutri-Score. Ecco qui però bisogna essere corretti. Ettore, su questo devo dire che Timmermans stava un po' più dalla parte delle eccezioni che noi ponevamo rispetto a questo tipo di vicenda. E su questo sta succedendo anche nella rappresentanza europea qualche piccola discrasia tra le organizzazioni verticali, per esempio quelli della carne, spagnola, francese, che non sono in linea con le loro organizzazioni di rappresentanza. Perché per esempio non conoscevano tutto il tema che traducendo noi i nostri filmati abbiamo mandato in Normandia, che abbiamo mandato nelle zone boccate alla produzione zootecnica francese. Pensate, come tutti quanti i produttori zootecnici si sono incazzati non da poco, anche con i loro vertici. Però detto questo, riguadagnando, Nutri-Score è l'ultima delle grandi vicende, sapete, no? I famosi semafori per cui nonostante per un momento sembrava che ci fossero non più problemi per la carne, sono tornati pure fuori i problemi per la carne. Per cui il semaforo sulla carne si accende di rosso nuovamente. Si era pensato che forse su pressione della Francia questo semaforo potesse diventare, però poi dopo alla fine le esigenze della Leclerc ci porta praticamente a dire che l'olio d'oliva si deve accendere il rosso, mentre invece sulla Diet Coke, ossia sulla Coca detta zero, senza zuccheri, si accendono i semafori verdi. Ragazzi, ragazzi, è accettabile, è possibile una cosa di questo tipo. Allora sì, noi diciamo a tutte queste persone, alla Lombarda, tenghen i corna, è vero. E un altro grave danno è quello, per esempio, prodotto da un'altra vicenda. Ah, ecco, scusate, pardon, pardon. E Timmerle dice, ma perché voi mi accusate di essere in combutta con il cibo sintetico, ossia quel cibo che si realizza, caro Bernie, senza più il latte, non serve il latte. Non serve il latte. Si prende una cellula, la si fa impazzire all'interno di un biorattore, e questa vicenda procurerà praticamente un prodotto che viene chiamato latte, non si sa come si può, e ci si fanno i formaggi. La stessa cosa, si prende un feto di una vacca, si prende una cellula staminale, si ficca la siringa all'interno del cuore di questa cellula staminale, e da lì nascono 100.000 bistecche. Perché con un processo chimico di laboratorio vengono fuori le cose che, non so se il filmato le sta facendo vedere, speravo in una regia un po' più attenta, però le voglio bene lo stesso. Queste sono le cose che verranno fuori, ci faranno mangiare questa merda qui. Ci vogliono far mangiare queste cose. Non so se ci rendiamo conto, ve le abbiamo fatte vedere. Non è possibile, non è immaginabile, che con degli impianti di 3D si possa praticamente fare una bistecca. Questa non è ancora sintetica, questa è una bistecca chiamata iperprocessata. Che cosa sono gli iperprocessati? Sono quei prodotti in mano a delle multinazionali, anche italiane, dove insieme con Heat Lancet, che è un grande contenitore di interessi globali, si stanno fermentando tutte le vicende che ti possono portare alla realizzazione della carne sintetica e dei cibi iperprocessati. In Italia questa partita è portata avanti dalle quattro multinazionali presenti, che hanno praticamente un grande merito, però, queste multinazionali che fanno queste cose. sono i quattro contribuenti più forti di Confindustria. Quindi non so, per me che lavoro per dirti, faccio un esempio a... Come si chiama il tuo giornale? All'informatore agrario. Ecco, Confindustria. C'ho la patacca del possibile futuro cavaliere del lavoro, qua chi tocca Confindustria. Pensa, a noi non ce ne frega un cazzo di Confindustria. Proprio niente. Scherzo, lui tra l'altro è un amico della Goldiretti. La sua testata no, però lui è un amico della Goldiretti, ve lo posso garantire. Finisco con una piccola solo accezione, perché sono molti i contributi che dovrete ascoltare. Pensate che in Israele, dove, per carità di Dio, noi abbiamo, grazie alla loro capacità di ricerca, tutte le start-up più importanti che serviranno a costruire il cibo sintetico. Voi pensate a una start-up isdragliana, quella che ha permesso in questo momento di edificare in Danimarca una delle più grandi latterie, perché non c'è bisogno manco del latte, per la costruzione dei formaggi. Ti devo dare una notizia, compreso il grano padano. Quindi cominci a preoccuparti, cominci a fare meno spot in televisione e sostenere di più i mercati di Campagna Amica, sostenere di più i nostri tour, perché attraverso quei tour noi alla fine praticamente del 2024 avremo incontrato 20 milioni di persone a cui avremo raccontato queste cose. Quindi io capisco che dovete andare in televisione fare gli spot, ma tra poco gli spot, se passa il meccanismo del latte sintetico e dei formaggi sintetici, te li porterai nella cineteca, li farai vedere ai nipoti, perché non ci sarà più l'agricoltura. Questo non lo possiamo permettere. Quindi dico pure agli amici del consorzio, datevene a svegliata, perché non è che con lo spot fermate gente che ha messo 250 miliardi di dollari per i prossimi dieci anni per la comunicazione. Ve lo dico con molta chiarezza, perché per questa partita che dobbiamo sostenere avremo bisogno di soldi. Dice, ma come? Sì, di soldi. È vero che ci hanno insegnato quando eramo piccolini, a noi Dorotei, basta, non si parla dei soldi, sono lo sterco del demonio. Eh, però i soldi servono. Servono come il pane. Ci siamo? Perché sarà una guerra dura, cari amici, una guerra molto più dura di quella che noi vediamo praticamente tutti i giorni, dove migliaia e migliaia di persone muoiono, come stiamo seguendo dalle cronache in Ucraina, nella vicenda russo-Ucraina. Sarà una guerra altrettanto importante. Perché faccio una domanda a voi tutti. Ma nel terzo e quarto mondo, dove due vacche rappresentano la vita di una famiglia e tante famiglie che hanno due vacche e realizzano i loro commerci grazie a quelle due vacche, ma non ci saranno milioni di morti? Ci saranno milioni di morti? E molti dicono, no, ma col cibo sintetico sfavoremo l'umanità. Ma voi ci credete che col cibo sintetico sfavoremo l'umanità? Ma dai ragazzi, ma dai! 23-24 persone che sono le proprietarie oggi della comunicazione a livello mondiale, che ci hanno in mano l'iTech, parlo dei Bill Gates, parlo degli Amazon, parlo di Elon Musk, e così via. Ci hanno già in mano questo. Hanno in mano le medicine a livello mondiale, con quello che significa oggi le medicine e tutta quella specie di letame che si è portato dietro il meccanismo anche in Europa dell'acquisto dei vaccini. Ce l'hanno in mano loro con Big Pharma. Big Pharma è un contenitore sempre nelle loro mani. Lo sapete che ci hanno in mano e che cosa vogliono fare? Vogliono avere in mano per i prossimi 50-100 anni una dieta alimentare che decideranno loro per tutta l'umanità. E i figli dei figli dei nostri figli dovranno soccombere alle volontà di questo manipolo di persone. Siamo pronti, caro Berni, a scendere con l'elmetto? Siamo già con l'elmetto in piazza. Speriamo che pure te nelle retrovie possa capire che la fureria è una delle cose che fa vincere la guerra. perché senza una sana fureria la guerra non si vince. Pensate, dicevo, in Israele è già a Tel Aviv presente un grande ristorante che si chiama The Chicken, il pollo, e serve carne di pollo sintetica. Dice, vabbè, ma questa non è una notizia, lo sappiamo. No, c'è una notizia che per poter avere quel pollo a tavola devi firmare una liberatoria perché il popolo ebraico è un popolo di persone intelligenti. Non sono mica come noi, quelle sono persone intelligentissime. E perché fermi una liberatoria? Qualsiasi cosa che potrà in qualche modo intaccare la tua salute mi lasci la liberatoria perché non è colpa del nostro ristorante se ti sei mangiato quella carne lì. Allora, già solo questo dovrebbe far capire a tutti e noi ci auguriamo che il nuovo governo il nuovo ministro possa far sua anche questa cosa di cui abbiamo parlato perché vi posso garantire un fatto che magari a voi del Granapatano interessa poco però te lo dico presso lo store del Granapatano abbiamo fatto firmare la petizione contro la possibilità che in Italia possa essere introdotto il commercio della carne sintetica e dei formaggi sintetici. L'ha firmato la neopresidente del Consiglio e l'ha firmato il ministro dell'agricoltura. Hanno visto uno degli spot di Berni e hanno detto ah porca miseria allora se lo spot è questo firmiamo sicuramente questa cosa. Berni oggi ti tocca te chiedo scusa però siete in due tu e lui non è che sei solo. Vi ringrazio e vi saluto abbracciandovi.